beer attraction 2019 siamo lo stand di san pellegrino e ci troviamo in compagnia di valentina mevio la responsabile marketing delle bibite san pellegrino buongiorno valentina e benvenuta buongiorno grazie mille io vi presento in realtà la nuova gamma delle bibite san pellegrino sì allora raccontiamo in poco meno di tre minuti i motivi che vi hanno indotto a venire qui in pompa magna devo dire per le grandi novità da presentare ai consumatori la parola novità è corretta perché in realtà il 2019 per san pellegrino sarà un anno di grandi novità soprattutto per la nostra gamma vetro per la prima volta dopo 87 anni infatti innoviamo completamente la gamma vetro a partire dalla clavetta quindi la nostra iconica storica storica bottiglia si è evoluta per essere più moderna al passo coi tempi e linea coi gusti anche dei nostri consumatori quindi abbiamo l'abbiamo slanciata l'abbiamo rivestita con delle etichette sicuramente più premium adatte anche a dei mondi più diciamo anche serali della pre serale appunto dell'aperitivo e l'abbiamo anche voluta migliorare in termini di prodotti quindi se rimangono gli storici prodotti come il cocktail il quinoa quindi prodotti che davvero hanno fatto la storia delle nostre bibite abbiamo voluto dare qualcosa in più alla gamma delle agrumarie per cui lanciando la nostra nuova gamma bio quindi aranciata aranciata amara e limonata diventeranno biologiche questo perché sappiamo che c'è in corso un trend di premiumizzazione da questo punto di vista e l'abbiamo voluto cogliere i nostri consumatori sono sempre più alla ricerca di qualità e con queste gamma bio sicuramente riusciremo a dare ancora più qualità ma non finisce qui non finisce qui è corretto perché sempre per il mondo del mix abbiamo voluto lanciare due toniche quindi avremo una tonica agli estratti di rovere e una tonica invece agli estratti di agrumi questo perché sappiamo che ovviamente nel mondo della mixability si ricercano sempre di più dei gusti anche diversi da poter abbinare diversi cocktail e vogliamo assolutamente essere presenti anche noi in questa in questo mondo valentina negli ultimi secondi guardavamo insieme i vostri bartender che stavano realizzando una mix ology a base di vostri prodotti vecchi nuovi eccetera come vi ponete rispetto al segmento della fascia serale quindi tutto ciò che rappresenta la mix ology perché la nuova linea mix ology sicuramente sappiamo che nel mercato è un grande trend c'è un trend di adultizzazione in generale e sappiamo che il mix fa assolutamente parte di tutto ciò per cui noi vogliamo dire avere la nostra voce in capitolo ovviamente anche in questo mondo ma farlo a modo nostro per cui farlo con delle ricette molto più particolari molto più di qualità anche cocktail che avete assaggiato che ha preparato il nostro bartender ricco scartella ovviamente sono delle ricette molto particolari per cui le avete potute assaggiare sicuramente sono diverse dal classici cocktail che possiamo trovare questo perché crediamo fermamente nella drinking experience e quindi dall'analcolico al mondo alcolico vogliamo proporre ai consumatori una drinking experience che sia articolata e che sia san pellegrino e dunque per tutti coloro che possono avere un interesse per i nuovi prodotti per i prodotti mix ology di cui parlavamo dei prodotti bio appena presentati c'è un indirizzo di posta elettronica a cui scrivere per riuscire a entrare in contatto diretto con voi e magari cercare avere un contatto commerciale avere maggiori informazioni o semplicemente essere poi ricontattati da un grossista per diventare vostri clienti nuovamente allora non ho un contatto email diciamo ma sicuramente raggiungendoci su tutti i nostri social siamo sempre attivi quindi potete assolutamente sempre scrivere noi riusciremo a mettervi in contatto con i responsabili commerciali ovviamente di zona per poter essere indirizzati ovviamente sulle persone di riferimento ideali valentina grazie grazie mille a voi grazie mille a voi